Buongiorno 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 Vanagan Buongiorno Buongiorno Grazie a tutti. 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 Yeah. Grazie. Yeah? Yeah. 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 Non è un problema, ma come. Tu hai fatto una perleiding al di bollet? Non credo, oggi. Lei non è lato. ... ... ... ... ... ... ... Sì, non lo so, non lo so, non lo so. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.